Ciao da Lucia! Oggi volevo presentarvi i miei ultimi acquisti Ice Yams. Tutti i filati che vi presenterò adesso li potete trovare nel sito di Francesca Italia Artisan. In descrizione vi lascerò il link per poter visionare il sito e quindi per poter andare a vedere personalmente questi filati e tanti altri. Vorrei iniziare con questa cake. L'avrete già riconosciuta, forse, perché vedete l'avevo usata in questa tonalità per fare il mio Bactus Irlanda. E ho deciso per l'appunto di comprare anche un'altra colorazione, mi piaceva molto e mi è piaciuto molto lavorarlo. Questa è una cake di 100% cotone, si chiama Cake Natural Cotton e ogni cake è da 200 grammi 430 metri. Da lavorare con, qui mette i ferri, però io li ho lavorati con l'uncinetto numero 4. Io ho usato proprio l'uncinetto numero 4 per lavorare nel mio Bactus, quindi direi che si attiene all'uncinetto consigliato. Ed è un 100% cotone, veramente molto bello e ha anche delle belle colorazioni. Io ho preso queste due e mi sono veramente piaciute. Ho iniziato con questa e poi ho in seguito comprato questa. Quindi questo ve lo consiglio vivamente perché è veramente un bel cotone. Dopodiché il mio secondo acquisto è questo. Anche questo l'avrete già riconosciuto, penso, perché è la cake di un altro colore che ho usato per fare il poncio bimba con le maniche. In quel caso era su sfumature del rosa, del violetto, insomma aveva delle altre sfumature. Ho deciso di cambiare tonalità e prendere questa perché mi era piaciuta molto, molto morbida. Mi ci sono trovata benissimo sia lavorarla che poi a capo finito proprio la morbidezza e quindi ho deciso di riacquistarne un'altra di un'altra tonalità. E anche questa adesso vi dico le specifiche. Allora è un 100% acrilico, 140 grammi, 225 metri per pallina, uncinetto consigliato il 5 ed ho usato effettivamente un uncinetto numero 5. Quindi anche questo filato si attiene ai ferri o uncinetto consigliati. Poi sapete che ogni filato consiglia un uncinetto o i ferri, però poi dipende anche dalla mano che abbiamo. Se abbiamo una mano più stretta, una mano più larga o vogliamo una lavorazione più ariosa o più stretta. Io per una lavorazione quindi né troppo stretta né troppo larga mi sono trovata benissimo con l'uncinetto consigliato. In ogni caso anche se non fosse lo stesso non sarebbe un problema. Un altro filato che voglio farvi vedere è questo, del quale io mi sono perdutamente innamorata. Infatti ne ho già comprate due lotti. Perché ci sto facendo un progetto che uscirà a breve. Io non ho mai amato le sfumature di giallo ma questa ha proprio delle associazioni di colori che sono fantastiche. Vedete giallo, grigio, un melone, un bianco, questo verdino. È veramente bella questa sfumatura ed è morbidissimo, veramente morbido il filato. Quindi vi vado a dire subito che cos'è. Questo si chiama Magic Light, questo filato di cui mi sono innamorata si chiama Magic Light. E appunto è un 100% acrilico. Ovviamente è tra gli acrilici quelli belli. Non dico sempre io tra gli acrilici dei quali bisogna avere paura di avvicinarsi al fornello perché sennò si prende fuoco. No, questo è uno degli acrilici belli. E vi dico che questo gomitolo è da 100 grammi per 360 metri. Uncinetti, qua porta sempre i ferri però io ripeto lo uso con l'uncinetto. Uncinetti 4, 4 e mezzo. Io ho usato il numero 4 e devo dire che si lavora benissimo. Quindi anche questo è un filato che consiglio perché è veramente ottimo. Ora vi vorrei fare vedere questa nuvola. Questa nuvola che forse non mi ci sta neanche tutta nell'inquadratura. Questa nuvola è meravigliosa. Io, guardate, non potete toccarle quindi non potete capire la morbidezza di questa nuvola. Questa nuvola è fantastica e sono veramente felice di averla tra i miei filati. E vi dico subito che questa bellissima meraviglia si chiama Hug Moer. È scritto Uge, ma penso che sia proprio Hug. Poi, se la mia pronuncia sbaglia, mi interessa come è scritto, quindi per andare a vederlo. Ed è un 19% Moer, 24% Lana, 47% Acrilico e 10% Poliestere. Ogni pallina, se così vogliamo chiamarla, perché è tutto tranne una pallina, sembra un cuscino più che una pallina, è da 200 grammi per 600 metri. Uncinetti consigliati, ferri. Io lo lavorerò con l'uncinetto, non l'ho ancora testata, ma ho provato e il punto si vede. Non ho ancora fatto un campione, ma ho provato appena appena a lavorarla con l'uncinetto e sono riuscita. Perché nonostante la pelosità, comunque il punto si vede. E qua sono consigliati il 5 e il 6. Io adesso non ricordo con quale l'ho testata, devo dire la verità. Ma penso sì che fosse un 6. Non ve lo so dire con certezza perché non lo ricordo bene, però... Guardate, vi faccio vedere il filato. Bello pelosetto e morbidoso. E penso fosse un uncinetto numero 6. Anche questo... Ma io tutti questi ve li sto consigliando vivamente perché sono molto, molto belli. E poi passiamo a questo che ho lasciato qua chiuso nella carta, ma... Ecco qua, questa meraviglia, pelosetta, luccicosa e morbidosissima. Questa meraviglia è... Vediamo come si chiama... Cell Luxury Premium. Veramente bellissimo. Io veramente non si vede... Forse si vede un po' che luccica e lucente, luminoso, ma... Non si riesce proprio a vedere benissimo. La camera non rende giustizia a questi filati. Allora, questo lo trovate in gomitoli da... Ecco qui, vediamo... Eccolo qua. 50 grammi per 150 metri. E la composizione di questo filato è un 30% Kid Moer, 60% Poliamide, 10% Acrilico. Molto, molto morbido. E allora, non pizzica? Perché di solito quando si legge Angora, Moer, tutti pensano... Oddio, pizzica. No, beh, per il Moer è un po' meno, più per l'angora. Però vi assicuro che è sofficissimo, veramente morbido. E anche questo filo che ha all'interno molto luminoso, non è l'Urex, quindi non pizzica. È molto luminoso, ma non pizzica. Molto bello anche questo filato. Devo dire che anche la tonalità di rosso è stupenda. E l'ultimo che volevo presentarvi è questo. E di questo anche me ne sono innamorata. Avevo chiesto appunto a Francesca com'era prima di comprarlo. Mi aveva detto, guarda, ti assicuro che è morbidissimo. E non immaginavo che per morbidissimo intendesse in questo modo. Perché è veramente eccezionalmente morbido. Ve lo assicuro. Questo qui, vedete, sono piccolini i gomitolini, ma comunque adesso vi vado a elencare le caratteristiche. E vi assicuro che la metratura, nonostante sia piccolino il gomitolo, è sostanziosa. Questo è un Baby Merino Deluxe. E qua mi mette subito consigliato col 3 mm. Quindi con un filato leggermente più sottile, ma infatti si vede che è sottile. Quindi consigliato col 3. Ed è una pallina, un gomitolo, è da 50 grammi per 150 metri. Quindi vi dicevo, è piccolino il gomitolo, ma in ogni caso, comunque come metratura è abbastanza. Non è una metratura bassa. E questo è un 10% Merino, 60 Premium Acrylic. No, ci manca una... Ah, ecco. No, è un 40%, scusate, 40% Merino. È tagliata male l'etichetta. Perdonatemi, vediamo se ne trovo una che si vede meglio. Eccola, infatti, questa si vede meglio. È tagliata male l'etichetta. 40% Merino, infatti mi sembrava che fosse un po' poco il 10%. 40% Merino e 60% Acrylico Premium. L'acrylico Premium, come sapete, è un buon acrilico. Quindi è considerato acrilico premium in tutti quegli acrilici molto soffici, lavorati bene. Insomma, non l'acrilico, come dicevo prima, col quale si deve avere paura di avvicinarsi al fornello. Questo è veramente bello e Baby lo consiglio veramente per i bimbi, per fare capi per bimbi, perché è veramente morbidissimo e indicatissimo proprio per i bambini, perché è di una morbidezza che non irriterebbe assolutamente la pelle dei bimbi. E quindi consiglio anche questo. Io credo di averveli elencati tutti, le mie meraviglie, oggi. Ve le ho elencate tutte. E spero di essere stata chiara con le descrizioni. Io non vendo filati, quindi le mie descrizioni sono da, tra virgolette, profana, quindi da persona che li usa e non da persona che li vende. Di conseguenza, magari cose un po' più tecniche, non so spiegarvele. Però posso comunque descrivervele visivamente, tattilmente, quindi la mia impressione al tatto, la mia impressione visiva. E per esperienza, quelli che ho già lavorato, quindi questo cotone posso dire che si lavora benissimo ed è morbidissimo. E i filati che ho già usato, come questo e la cake che ho già usato, vi posso dire che sono veramente fantastici. Gli altri sicuramente lo saranno perché già la presentazione è già a toccarli e a vederli per brillantezza, per morbidezza, per consistenza e quant'altro. Io posso dire solo che sono veramente dei prodotti buonissimi e che io uso spesso. Quindi sapete che non compro la qualsiasi, ma mi piace comunque avere dei filati buoni e che diano pregio anche al capo che vado a realizzare. Quindi io vi invito ad andare di nuovo a vedere il sito di Francesca Italia Artisan, di non esitare nel contattarla perché è veramente gentile e disponibile e può darvi tutte le informazioni che io non sono in grado di darvi, quindi a livello tecnico dei vari filati. Io vi saluto, vi mando un bacione e quindi anche oggi ciao ciao da Lucia. A presto!